Le donne vanno protette, le violenze devono cessare, la legge nei confronti di chi abusa di loro si è inasprita, ma le vittime non diminuiscono. Solo a Cremona, dall'inizio dell'anno, si sono registrati 49 maltrattamenti in famiglia, 37 casi di stalking e 22 denunce di violenza sessuale. Nei primi dieci mesi del 2013, la Caritas ha ospitato 150 persone, tra donne e bambini, vittime di violenza, fisica, economica, psicologica e sessuale. E per far fronte a questa piaga, presto in città ci sarà uno strumento in più, un progetto in rosa, tutto al femminile, voluto dal vescovo, che prenderà vita nella ex casa delle oblate in via Ettore Sacchi, struttura ora vuota. La casa di Nostra Signora tornerà così a vivere, come da tradizione, nel nome delle donne. La scelta che è stata fatta dalla Diocesi è che casa di Nostra Signora continui ad occuparsi, secondo la sua tradizione, secondo la storia decennale di casa di Nostra Signora, continui ad essere in qualche modo il luogo delle donne. Si chiamava la casa della giovane, casa di Nostra Signora, nella dizione comune delle persone. Ecco, continuerà ad essere una casa che cerca di rispondere ai bisogni di oggi delle donne che sono in una condizione di fragilità, giovani o meno giovani. Tre, i verbi che riassumono lo spirito del progetto sociale. Lavorare, abitare ed educare. Ci può spiegare che cosa significa? Sì, sono tre modi per dire in maniera rapida quali sono le attività, i servizi che si vogliono sviluppare all'interno di questa casa. Intanto, offrire alle donne che sono in una condizione di particolare fragilità, delle possibilità di lavoro. Secondo è abitare, che è un'altra condizione fondamentale per l'autonomia. Pensiamo a una donna sola che magari ha un bambino, che magari temporaneamente perde il lavoro, se non ha una casa come fa a provvedere a se stessa in maniera autonoma. L'educare è rivolto a tutti, vuol dire cambiamo la mentalità nei confronti delle donne e incominciamo veramente a considerarle come delle persone che sono in pieno portatrici di dignità e di diritti e che dunque vanno rispettate come tale, vanno accolte come tale, vanno valorizzate come tale. Emancipazione, sostegno e aiuto, questi gli obiettivi del progetto sociale che dovrebbe essere pronto in primavera. Passo successivo, la ristrutturazione della casa. A lavori terminati, le donne in difficoltà potranno trovare rifugio qui e cogliere una nuova occasione di vita. Grazie a tutti.